allora sono qui con questo assieme vado a aprire qui ok vado a aprire qui vado a usare ancora di expert io per facilità vado a prendere diciamo la specie di datum qui ok per facilitare perché così come si può dire o meno problemi ok e dunque vado a fare l'auto come si chiama schema di auto quotatura dimensionale polare vabbè usiamo polare dopo vedo già tanto me interessa solo la distanza tra qui e qui e dunque anche se a mio avviso non è corretto metto prendono il riferimento primario qua è il riferimento secondario ma lo prendo solo per come si può dire una questione di facilità che metto meno tolleranze a questo punto vado vediamo cosa viene fuori vabbè lasciamo così già tanto me in quel che interessa è adesso trovarlo adesso a trovarlo sarebbe non questo ma dov'è che è e non lo trovo neanche nottea perché a questo punto faccio senza fare l'auto quotatura prima faccio prima non lo trovo maledetto 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 dove sei vale mi conveniva ripetizione piano 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 ho metto io questo piano qui che la distanza rispetto a questo ok ripetizione piano non me l'ha fatto vabbè vado metterla quota io dunque vado in mbd ok vediamo mb di tiro via questo mb di dove sei dove sei dove sei dove sei che devo andare a portare però non voglio mettere allora strumenti andiamo un attimo aggiunte ok qui ci siamo quota di posizione ok e vado a mettere da qui a qui però vi faccio perché non so perché abbia preso quota di posizione prendo da qui a qui a perché me l'ha fatto con prendiamo il piano però io voglio solo il piano ma aveva fatto con una funzione di a me serve il piano hai per vincolato la parte e dunque va bene ma devo andare a togliere questo 72 tolgo questo qui a questo punto diventa tutto rosso perché a me interessava solo questo capito perché perché lui l'ha creato con un foro vabbè adesso io questo qui 27 vado a dargli perché io voglio diamoli quella io voglio essere sicuro ok a questo punto io voglio che questo qui sia sempre meno e dunque facciamo bilaterale tra 0 e 0 2 ok tra 0 e meno 0 2 qua vado a mettere 0 2 e qua vado a mettere 0 dopo vediamo quando facciamo perché devo adesso dopo nel video dopo dovrò andare a vincolare anche il cuscinetto e dunque facciamo 0 27 meno 0 2 27 ok vabbè a questo punto salvo file salva ok e nel prossimo video vedremo che dobbiamo andare a mettere il cuscinetto a meno che ce l'abbia già ma non ce l'ha vabbè sempre la larghezza ci vediamo alla prossima arrivederci ciao ciao ciao